Sono Simonetta Stigiano, sono candidata per il Consiglio Comunale per la Federazione della Sinistra. Io credo che quella per l'acqua sia stata veramente una battaglia importante ed è importante portare avanti quella che è stata evidentemente la volontà popolare di ripubblicizzazione dell'acqua. Credo anche che sia una battaglia che ora andrebbe estesa perché ci sono altre cose che sono beni comuni, che devono essere beni comuni. Ad esempio, a mio avviso, ne cito alcuni, la sanità, la scuola, il trasporto pubblico, dovrebbero essere tutte cose pubbliche finanziate degnamente dal pubblico, dovrebbero diventare servizi e non fonte di guadagno. Perché questo è uno dei problemi, che sono tutte cose che diventano fonte di guadagno e quindi vengono gestite in maniera assolutamente privatistica.